20 luglio 1969 A scuola vi hanno raccontato che l'Apollo 11 perse il contatto con la Terra per due minuti. Non è vero, quel giorno trovarono qualcosa che hanno tenuto nascosto per 50 anni e che ora è tardi per fermare. L'ultima ora, il governatore ha ordinato l'evacuazione totale dell'intera costa occidentale. Spostarsi sulle atture è l'unica possibilità per sopravvivere. State svegli, fratelli e sorelle! State svegli! Questo pianeta ha vissuto cinque estinzioni. Questa sarà la sesta. Siamo morti? No, siamo solo all'interno della Luna. Può essere la cosa più grandiosa che sia mai stata detta. Grazie a tutti!